Buona settimana a tutti, questo è il rabbino Gottesman da Gerusalemme. La prossima settimana è Rosh Hashanah, allora parleremo un po' a Rosh Hashanah. Se una persona guarda al Mahzor, al Sidur di Rosh Hashanah, vede molto poche Tfilot che chiedono che il Dio ci dia un buon anno nuovo. Quasi tutte le Tfilot dicono, Dio te sarai il nostro re, vera Mosheach, te sarai il re del mondo con l'unico nome, con l'unico re. Tutte le Tfilot parlano del Dio che è il re del mondo. E pochi Tfilot qui e lì sono sparse con le preghiere per avere un anno nuovo. Questa è la domanda, perché è l'anno nuovo che Dio deciderà che tipo di anno avremo? Perché non chiediamo che Dio ci dia un buon anno invece di concentrarsi al dire che Dio è il nostro re? Il punto è che quando viene il nuovo anno che è la creazione del mondo, che è la creazione dell'uomo, Dio ha creato il mondo perché sia re. Un re senza popolo non è un re. ha creato un popolo in questo mondo perché sia re. E' il nostro lavoro di fare sì che il Dio è il nostro re. E quello, il giorno primo della creazione, il giorno primo che ci ha creato, sta a noi di reclamare che il Dio è il re. E certamente se Dio è il nostro re e noi siamo i loro sudditi, il Dio ci darà quello che abbiamo bisogno. Ma prima di tutto scedo a dire che il Dio è il nostro re. Dopo c'è Yom Kippur, che si tratta di Chuvah, che a Yom Kippur già chiediamo di un buon anno, che Dio ci dia delle belle cose, quello è già Yom Kippur. Ma lo Sheshanah prima di tutto accetta a fare che Dio è il nostro re. Come si fa che Dio è il nostro re? Fuori che dire chiaramente nelle nostre parole che Dio è il re e nelle parole del Sidur, noi dobbiamo accettare su noi stessi che il Dio è il re, il che vuol dire che noi vogliamo fare quello che Dio vuole da noi. Quello è fare il Dio re. Ogni volta che facciamo qualcosa, dobbiamo chiedere a noi stessi cosa Dio vorrebbe che noi facciamo in questa situazione. non quello che io voglio, non quello che mia moglie vuole, non quello che i miei genitori vogliono, non quello che i miei bambini vogliono, non quello che il mio datore di lavoro vuole. Cosa il Dio vorrebbe che facci in questa situazione? E così una persona deve andare tutta la sua vita, cercare di fare quello che Dio vuole, anche se sbagliamo, se abbiamo fatto uno sbaglio e non abbiamo fatto esattamente quello che voleva Dio, ma nella nostra mente era quello che Dio voleva, basta, il Dio ci arrangerà le cose che tutto andrà bene per noi. Una persona che vuole fare la volontà di Dio, il Dio lo aiuta in ogni maniera. Poi ci sono due maniere di essere servi di Dio. Come diciamo nella preghiera, si può essere come bambini a Dio e si può essere come schiavi a Dio. Se siamo come bambini, il Dio ci tratterà come bambini. Un bambino gli dà tutto quello che ha bisogno, tutto quello che vuole, tutto quello che gli puoi dare, che non gli noccia, non gli faccia male. Bambino, un servo gli paghi lo stipendio, gli dai da mangiare, è finito. Allora, come si fa ad essere bambini e non schiavi? Cos'è un bambino? Un bambino che vede suo padre e torna dal lavoro stanco, gli porta un bicchiere di tè, gli porta le pantoffole, gli chiede com'era il lavoro, gli dice uno scherzo, lo rinviva, gli dà un bacino. Questo è un bambino. Un servo? Un servo niente. Quando viene il padrone a casa, se il padrone gli chiede per un tè, gli fa il tè. Se non gli chiede, non fa nulla, va a camera sua e guarda la televisione. Se noi serviamo il Dio come bambini, come i suoi bambini, allora il Dio ci tratterà come i suoi bambini. Se noi serviamo il Dio come un servo, il Dio ci tratterà come servi. Allora è molto importante di prendere su noi stessi la decisione che il prossimo anno serviremo il nostro Dio con tutto quello che Lui vuole come bambini e non come servi. L'ultima domanda è cos'è che Dio veramente vuole da noi in questi momenti? Sono momenti difficili per l'umanità, per gli ebrei, per tutto il mondo. E dicono i rabbanim che la mitzvah più importante in questi anni difficili prima che viene Meshia è emunah, avere fiducia in Dio, fede in Dio. C'è un bellissimo libro, Il giardino dell'emunah, scritto dalla Shalom Arush, che spiega esattamente di cos'è emunah è veramente una buona idea di comprarlo. Si può comprare in Israele dal Chut Shil Chesed, un'organizzazione di Shalom Arush. emunah è tfilah, perché pregare a Dio, vivere con Dio nella vita, il che vuol dire ogni volta che ha bisogno qualcosa, chiedi a Dio, è lì, è pronto per te, è tuo padre, ti aspetta che gli chiedi. Chiedere a Dio, Dio dammi questo, dammi questo, a chi altro vai a chiedere? Lui che fa tutto, lui che ha tutto. Chiedere a Dio, dire a Dio grazie quando ci dà le cose, una volta che ci dà le cose, non basta chiedere, ci deve anche dire grazie quando ci ha dato le cose, e anche quando non ci dà le cose dire grazie, è molto importante, perché il Dio non ci dà le cose, non ci dà le cose o ci dà dei problemi, perché è come un padre che dà dei schiaffi al bambino quando sta facendo qualcosa che non deve fare, che non gli dà troppi cioccolati, che non gli fa male lo stomaco. Se non ci dà, è per il nostro bene, dobbiamo dire grazie anche per quello, e vedremo se si dice grazie quando il Dio non ci dà, il Dio ci darà subito quello che abbiamo bisogno. Allora di rinforzarsi tutti in questo anno di fare la volontà di Dio, di pregare a Dio, di dire grazie a Dio, anche le cose brutte, come le cose buone, e guardare a Dio come un padre che ci vuole il nostro bene, e farlo il re, questo Rosh Hashanah, tenere in mente che lo vogliamo, che il Dio è il nostro re, e noi siamo i suoi sudditi, i suoi bambini, i suoi principi, e che il Dio ci aiuti a avere un buon anno nuovo, che sia la fine di tutti questi problemi, della corona, di tutte queste storie che abbiamo. Dio ci aiuti, buona settimana, buon anno nuovo a tutti. Shalom Shalom.